Bollette stratosferiche, attività in ginocchio e arrivano i primi distacchi per le utenze non pagate. Sembra un bollettino di guerra, ma è la realtà quotidiana vissuta da centinaia di attività su tutto il territorio di Salerno e provincia. Tra le imprese più esposte, quelle del comparto panificazione. Dobbiamo ringraziare solo il nostro governatore della Campanica, ha fatto qualcosina, giustamente, nelle sue possibilità. I fondi sono pochissimi, vediamo come vengono distribuite, ma sicuramente sarà una bricciolina ciascuno. Però, purtroppo, le sue possibilità, quelle sono state, anzi, lo ringraziamo perché c'è avuto incontro. Ora stiamo aspettando il nuovo governo, però da parte nostra sicuramente c'è una serrata, perché noi purtroppo non possiamo andare avanti così. Alcuni imprenditori non sono riusciti a pagare le bollette e si sono visti staccare le utenze. Altri stanno provando a tamponare con sistemi di fortuna, ma la situazione è critica. Sì, sì, sono attività già purtroppo che sono state tagliate la corrente. Qualcuno mi raccontava che è andato la notte ad accendere il forno e il forno non si accendeva. E purtroppo era perché era stato tagliato il gas. Qualcuno ha trovato qualche rimedio, ma è un rimedio che, sai, ha messo GPL, qualcuno ha messo i gruppi elettrogeni. Giusto per tamponare, però a fin dei conti sono pochi i margini, capito? Perché veramente da giorni che stiamo mettendo dei soldi nelle nostre imprese e non ce la facciamo più. Allora, guarda, dico una cosa proprio contro il lavoro e la dignità di una persona. Però oggi ci conviene più stare fermi che lavorare.